6 luglio 2011 oggi ho sentito papà che diceva a mia madre che la febbre è grave ma che io non devo sapere e neppure devo sapere che è una febbre sconosciuta e che la guarigione è improbabile poi la mamma si è messa a urlare quando papà ha detto che forse rimane poco tempo non 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 Grazie.